Bici nuove le abbiamo già trovate, le abbiamo già provate, anzi con le bici nuove abbiamo già corso e vinto in America, poi abbiamo corso con buoni risultati in Oceania, abbiamo fatto il Santour dove Franco Pellizzotti è arrivato nei top 10 e poi anche in Italia, abbiamo iniziato bene in Italia, in Spagna, due piazzamenti nei top 10 da parte di Oceania. L'ho scargato, quindi bici veramente di qualità, corridori si trovano molto bene, sono rimasti entusiasti, quindi con quota direi che l'esordio di quota è stato ottimale.